Thriller è il sesto album in studio di Michael Jackson, pubblicato nel 1982. Con questo disco, l'artista, deceduto il 25 giugno del 2009 e la cui morte è diventato un mito avvolto nel mistero, raggiunse la sua massima notorietà. Inoltre risulta l'album più venduto nella storia di tutta la musica, con 110 milioni di copie all'attivo dall'anno della sua pubblicazione. E in media vende ancora circa 500.000 copie all'anno. Dall'anno, questa sera vi proponiamo l'omonima canzone, a voi il CBC in Trill. Grazie. 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 Grazie.